Si chiama la BC di Mamma e Papà, l'iniziativa promossa dal comune di Corciano e dalla cooperativa Nuova Dimensione che ha visto un ciclo di incontri dedicati ai neogenitori per aiutarli nel loro percorso di crescita dei figli. Insieme alla psicologa Margherita Antonielli, il neopapà e le neomamme hanno preso parte ad un confronto pedagogico che già negli anni passati ha riscosso successo tra i partecipanti. Il mondo della formazione trova in noi sicuramente a Corciano, nelle istituzioni locali, un sicuro partner. Sono sempre, tra l'altro, la grande crescita demografica che abbiamo avuto a Corciano e quindi l'arrivo di tante coppie giovani.